Tanti oggi si mascherano e si nascondono, amano costruire personaggi e inventare profili, si rendono schiavi delle miserie e risorse che racimolano e a cui si aggrappano come se bastassero per comprarsi l'amore che non ha prezzo. Non sopportano il brivido di sapersi conosciuti da qualcuno che è più grande e non disprezza il nostro poco, è più santo e non rinfaccia la nostra debolezza, è buono davvero e non si scandalizza delle nostre piaghe. Non sia così per voi, lasciate che tale brivido vi percorra, non rimuovetelo né silenziatelo. È un discorso denso e ricco quello che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al corso di formazione per i nuovi Vescovi, a quanti sono stati pescati con l'amo della sorprendente misericordia di Dio per basi dal brivido della sua chiamata. Ed è stato proprio il tema della misericordia, correre lungo le pagine dell'intervento del Pontefice, quale unica forza capace di sedurre e attrarre in modo permanente il cuore dell'uomo, perché si può ignorare un Dio lontano e indifferente, ma non si può resistere facilmente a un Dio così vicino e per di più ferito per amore. A tutti Papa Bergoglio ha chiesto di rendere pastorale la misericordia, essendo Vescovi capaci di incantare, attirare, di iniziare quanti sono stati loro affidati, essendo capaci di accompagnare. Basta dunque con Vescovi che si lamentano, Vescovi alla moda, perché ha giunto. Il mondo è stanco di incantatori bugiardi, si diffiuta e si allontana quando riconosce i narcisisti, i manipolatori, i difensori delle proprie cause, i banditori di bane crociate. È importante invece ricordare che Dio non si arrende mai, che per Lui ognuno è unico e nulla deve essere lasciato in tentato pur di raggiungere le persone, che occorre avere particolare cura dei seminari senza lasciarsi tentare dalla quantità delle vocazioni e delle famiglie, soprattutto quelle ferite. Chinatevi sulle ferite dell'umanità, ha concluso Papa Francesco, resistendo a un certo reumatismo dell'anima che impedisce di piegarsi.